Allora, quando si parla di cuore, insomma, c'è un attimino, perché insomma il cuore va curato, va in qualche modo anche protetto, però forse quelle delicatezze che noi pensiamo, anche per chi ha avuto dei problemi cardiaci, si possono superare, si possono comunque, si può fare una vita davvero normale, anche agonistica, e cuore batticuore un po' ce l'ha insegnato. Sì, cuore batticuore, appunto da 35 anni si occupa delle malattie cardiovascolari, come non farle succedere, che è la prima cosa, e poi come dare una possibilità di vita normale, anzi più che normale, salutare e gradevole, a chi purtroppo abbia già avuto qualche problema di questo genere, perché purtroppo queste malattie rappresentano la metà delle cause di malattie e di mortalità nel nostro paese, quindi stiamo parlando di un problema enorme. Allora, cosa fa questa associazione per prevenire malattie, e quindi anche a livello educativo, culturale, suppongo? Negli anni la nostra attività si è differenziata per la prevenzione primaria, cioè per chi non è ancora ammalato, e adesso il clou di questa attività è l'attività che facciamo nelle scuole. Siccome le basi di questa malattia sono gettate già nei primi anni di vita, o perlomeno già dalla giovenezza, noi vogliamo che si impari uno stile di vita che protegga da queste malattie, e quindi andiamo nelle scuole superiori di Bergamo da molti anni, e adesso abbiamo in programma un ulteriore sviluppo di questa attività, per spiegare ai ragazzi come devono fare partendo dalla loro età, dalla loro giovane età, per non ammalarsi nel futuro. Tre ingredienti importanti per preservare il nostro cuore. Allora, uno purtroppo è la familiarità, è quella, non possiamo farci nulla, però dobbiamo tenerla in considerazione, perché chi ha queste patologie in famiglia deve stare molto più attento ancora degli altri. Quindi, secondo luogo, quello di cui sarà oggetto il nostro convegno, l'alimentazione, che deve essere corretta, e non si può fare un discorso qua ovviamente sull'alimentazione perché sarebbe molto lungo, ma è fondamentale alimentarsi bene, e terzo, fare un'attività fisica adeguata e costante. E questo vale sia per i giovani e i sani, e vale anche però per chi si è già malato di cuore, chi ha già avuto problemi, che una volta, i primi anni in cui faceva il cardiologo, stavano 30 giorni a letto con l'infarto, e poi immediatamente chiedevano la pensione di invalidità. Noi, in questi 35 anni, abbiamo dimostrato che invece si può tornare a una vita normale, anzi, si può tornare a una vita più attiva e, noi diciamo, anche più divertente di quanto era quando eravamo molto stressati e facevamo solo quello. Più consapevole. Più consapevole. Più consapevole. Il fatto, ha ormai dimostrato che si può prevenire. Lei parlava di alimentazione, dovremmo davvero aprire un capitolo molto ampio, è anche discorso, tra l'altro. Occorrerebbe un lungo discorso. È un lungo discorso, però quando si dice corretta alimentazione, diciamo, cosa assolutamente non si deve mettere a tavola. Allora, corretta alimentazione vuol dire soprattutto due cose. Io dico sempre, mangiamo troppo e qui ci capiamo subito e mangiamo male, nel senso che non diamo la preminenza a frutta, verdura, cibi integrali, mentre, soprattutto noi bergamaschi, salame, cotechini, pancetta, sembra che ci tolgano la vita quando ci tolgano queste. Sono un po' nemici in generale. Che non sono proibiti, però vanno, ecco, con grano salis, come si dice, un bicchiere di vino a tavola. Un bicchiere di vino è protettivo, uno, sia per i ragazzi e sia per gli adulti, perché invece quando si dice, ah, il vino si può bere, allora ci ubriachiamo. Quella è un'altra questione. No, fa malissimo alla testa, al fegato e anche al cuore. E anche al cuore. Sento poi tra le tante attività che voi avete svolto, abbiamo detto appunto all'interno delle scuole, anche delle donazioni, giusto? Sì, noi abbiamo fatto donazioni a varie strutture, in particolare negli ultimi anni alla Croce Rossa e a cui abbiamo donato una serie di elettrocardiografi, perché un concetto fondamentale della terapia delle malattie di cuore è questo. Nel momento in cui ci si ammala, cioè proprio nel momento in cui viene l'infarto, diciamolo in modo più, è assolutamente importante fare la diagnosi subito e se la diagnosi viene fatta già sulla Croce Rossa, che arriva alla casa del paziente, sull'ambulanza, l'elettrocardiogramma viene trasmesso direttamente all'ospedale e il paziente quando arriva in ospedale salta il pronto soccorso, va immediatamente nel punto in cui devono curarlo, che è il posto dove si fa la coronagrafia e dove si allarga la coronaria che si sta chiudendo. Quindi avere la possibilità di fare un elettrocardiogramma immediatamente sulla Croce Rossa è importante. E la Croce Rossa ci ha chiesto negli ultimi anni un certo numero di elettrocardiografi che noi abbiamo donato e in questo modo sicuramente abbiamo e stiamo aiutando la gestione di questa patologia. Poi c'è la settimana viva, insomma tante iniziative che richiamano, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta finendo, ma davvero sono tantissime le iniziative e chiaramente nel convegno di sabato, nel tuo giusto, sette di aprire al polo fieristico di Via Lunga ci sarà la possibilità di un confronto per fare chiaramente gli auguri di compleanno e quindi raccontare questi 35 anni di storia, ma per dare anche delle indicazioni importanti proprio nella prevenzione e nella cura e poi nel mantenimento per una vita sana. E questo io direi vale anche perché è possibile, adesso abbiamo un ottimo sito internet che è facilissimo, cuorebatticuore.net dove è possibile vedere tutte le nostre attività e come noi consigliamo aderire all'associazione perché aderire all'associazione aiuta veramente molto i pazienti. Perfetto, io ringrazio Dante Mazzolini, cardiologo e membro del comitato scientifico proprio dell'associazione Ollus Cuore Batticuore, buon compleanno naturalmente, noi ci fermiamo qui.